Su ideawebtv.it questa è la A-Star Night, la notte dedicata alla nuova stella nel firmamento della Mercedes. Stiamo parlando della nuova classe A che nel segmento delle compatte rappresenterà la vettura di punta della casa di Stoccarda. Una macchina rivolta ad un pubblico essenzialmente giovane, una macchina che smentisce nelle forme quelle che erano delle dicerie legate a un assetto troppo femminile della macchina in questione che era stata criticata per questo motivo in passato. Come vedete c'è tanta gente qui questa sera da Gino Mercedes SPA dal 1959, la concessionaria della Mercedes della provincia Granda e noi abbiamo provato in anteprima per voi ascoltatori e lettori di ideawebtv.it questa vettura e nei video successivo avremo modo di apprezzarne le caratteristiche estetiche e soprattutto le caratteristiche di guida e del motore.